Questa è un'alga verde di 10 centesimi di millimetro e si riproduce per divisione diretta, come abbiamo già avuto occasione di osservare. Quando in un'alga unicellulare avvengono più moltiplicazioni, si ha una forma particolarmente rapida di riproduzione cellulare, detta sporogonia, o moltiplicazione multipla, erroneamente chiamata divisione multipla. È la stessa che il plasmodio della malaria utilizza per moltiplicarsi nei globuli rossi di chi è punto dalla zanzara anopheles. Assistiamo in tempo reale a momenti finali di moltiplicazioni multiple. È una strategia adottata non solo dalle alghe, ma anche da alcuni ciliati, come nel caso che stiamo vedendo e in quello che andiamo ora ad osservare. Questa grossa cellula, su cui si è aggirato, incuriosito un ciliato, è pronta per moltiplicarsi. Sarà una moltiplicazione multipla, come lascia prevedere il notevole continuo rimescolamento delle numerose formazioni interne. Dopo poco tempo, la membrana cellulare si rompe ed escono numerosi ciliati, che a loro volta danno in breve origine ad altre rapide moltiplicazioni. Sono della stessa specie dell'individuo visto prima correre sopra la cellula. Sui resti della cellula originaria si sono intanto precipitati a banchettare gli onnipresenti batteri. Grazie. Grazie. Grazie.